Buon pomeriggio, buona domenica, ben trovati al nostro consueto appuntamento con il rotocalco dedicato ai principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Cominciamo da lunedì primo luglio quando Papa Francesco ha comunicato che domani sarà a Lampedusa per una visita in forma discreta e ha annunciato Padre Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, toccato dal recente naufragio di un'imbarcazione di immigrati dall'Africa, il Papa lancerà una corona di fiori nelle acque dell'isola, incontrerà gli immigrati e la popolazione e dirà anche messa. Padre Stefano Anastasi, sacerdote della parrocchia di San Gerlando, lo aveva invitato in visita a Lampedusa già lo scorso aprile. Oggi Papa Francesco risponde ufficializzando una visita pochissimi giorni dall'evento. Lunedì prossimo, 8 luglio, Papa Bergoglio sarà nell'isola Crocevia delle Rotte dei Migranti nel Mediterraneo. Papa Francesco si legge nel comunicato alla sala stampa vaticana, profondamente toccato dal recente naufragio di un'imbarcazione che trasportava migranti provenienti dall'Africa, ultimo di una serie di analoghe tragedie, intende pregare per coloro che hanno perso la vita in mare, visitare i superstiti e profughi presenti, incoraggiare gli abitanti dell'isola e fare appello alla responsabilità di tutti affinché ci si prenda cura di questi fratelli e sorelle in estremo bisogno. Ma la notizia nella notizia è un'altra, confermando lo spirito di questo Papa che sta impressionando con le sue azioni fuori dagli schemi, Papa Bergoglio annuncia che la visita si realizzarà nella forma più discreta possibile, anche riguardo alla presenza dei Vescovi della Regione e delle autorità civili. Pochi presenti dunque per non strumentalizzare né spettacolarizzare una visita che vuole rispondere allo spirito di solidarietà e fratellanza nei confronti dei popoli migranti e dei cittadini di Lampedusa che li accolgono. Entro la fine dell'anno saranno tagliati 1.500 posti letto in Sicilia. L'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino ha annunciato le nuove manovre che mirano alla riorganizzazione del settore. 1.504 posti letto in meno, negli ospedali pubblici e nelle cliniche private, tre punti nascita da tagliare a Petraia, Augusta e Caltagirone. L'infinita opera di riorganizzazione della sanità siciliana passerà attraverso queste misure tutt'altro facili da mandare giù. Ma per l'assessore regionale Lucia Borsellino si tratta di provvedimenti necessari per migliorare i servizi senza o aumentare i ticket e ridurre gli sprechi. Borsellino ha illustrato la sua relazione annuale dalla quale emergono dati contrastanti. Il decreto Balduzzi impone alla regione una serie di tagli. Dagli attuali 19.581 posti letto bisognerà arrivare a 18.077. Quindi si procederà con la diminuzione di quelli per terapie più gravi e comuni, aumentando nel contempo i posti letto per lungo degenza. A saltare saranno, come detto, i punti nascita di Petralia, Augusta e Caltagirone, mentre saranno salvati quelli delle isole minori e delle comunità montane. Si aumenterà l'offerta sanitaria per cure palliative e terapie del dolore e verranno attivati altri 240 posti per la cura dei problemi psichiatrici. Insomma, se da una parte si taglia, dall'altra si cerca di aumentare. A saltare, ha voluto precisare Borsellino, saranno i reparti doppioni o anche tripli. Ce ne sono ancora molti in chirurgia e medicina. Nella sua relazione Borsellino ha spiegato quelli che vengono definiti dei risultati positivi. Ridotta entro le 72 ore l'attesa per un intervento al femore, diminuiti i parti cesarei, migliorati gli interventi di angioplastica, diminuito il numero dei ricoveri. Alla fine una promessa. Tutti questi provvedimenti non comportano l'aumento del ticket sanitario regionale. Martedì 2 luglio, dopo circa dieci anni, chiude il centralino dell'Assemblea regionale siciliana. 15 lavoratori licenziati, ma 40 deputati protestano. C'era una volta il centralino dell'Assemblea regionale siciliana. Si telefonava allo 091 705 1111 e l'operatore smistava la chiamata indirizzandola all'ufficio desiderato. Adesso a quel numero risponde una voce registrata che invita a consultare il sito internet dell'Assemblea, dove in basso, nella pagina iniziale, alla voce rubrica telefonica, si accede all'elenco completo di tutti i recapiti di tutti gli inquilini di Palazzo dei Normanni, divisi ordinatamente per ufficio e settore, con tanto di indirizzi di posta elettronica. La decisione di sospendere il servizio porterà a un risparmio di oltre 2 milioni di euro in tre anni, così come sostenuto dal presidente dell'Assemblea, Giovanni Ardizzone. Ma questo risparmio non è indolore. Sono saltati 15 posti di lavoro, cioè quelli dei centralinisti della Mediterranea Comunicazione che gestiva il servizio. Una quarantina di deputati dell'ARS, capitanati da Toto Cordaro, hanno sottoscritto una mozione per protestare formalmente contro il provvedimento. Bisogna convocare immediatamente, dicono il responsabile dell'azienda appaltatrice risultata vincitrice della gara per rivedere eventualmente al ribasso il costo del servizio. Per i parlamentari i centralinisti erano utili e servivano anche per importanti comunicazioni interne. Il presidente, Giovanni Ardizzone, non ci sta. È assurdo protestare. Adesso qualunque cittadino potrà collegarsi al sito dove sono a disposizione tutti i numeri di Palazzo dei Normanni e un'operazione trasparenza senza precedenti che consente un risparmio notevole. Il centralino iniziò a lavorare con un costo di 900 mila euro all'anno nel 2004, sceso poi a 670 mila nell'ultimo bando vinto dall'azienda a ottobre. Poi la revoca, una proroga di sei mesi e adesso la cessazione del servizio. Nuovo testo unico delle attività produttive in discussione all'ARS. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale competente Linda Bancheri che ha preannunciato la possibilità di inserimento di nuove norme a favore del turismo e del commercio con maggiori liberalizzazioni per permettere la nascita di nuove realtà commerciali. Concretamente i flagship di questo testo unico sicuramente sono le norme collegate alle liberalizzazioni quindi in questo avremo anche più libertà di poter programmare e pianificare le attività commerciali senza avere più i paletti che c'erano prima. L'attenzione è che per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura, su quello abbiamo candidato la Sicilia ed è stata accolta la conferenza Stato-Regioni la presenza all'interno del gruppo in commissione attività produttive che si occupa di costituire una proposta che verrà fatta al Ministro proprio sul problema degli orari di apertura e chiusura. Quindi proprio su questo punto anche nel nostro testo unico noi lasciamo uno spazio aperto perché attendiamo di definire questa parte in modo definitivo insieme a tutte le altre regioni d'Italia a maggior ragione anche perché adesso facciamo parte del gruppo di lavoro nazionale. Per quanto invece riguarda le altre innovazioni, dalle autorizzazioni perché comunque abbiamo dato via libera le autorizzazioni, le autorizzazioni che poi verranno date in tempo reali, quindi in tempi di impresa, è un'altra innovazione che noi abbiamo inserito molta semplificazione dal punto di vista amministrativo, utilizziamo molto lo sportello SUAP. Qualcuno mi ha già detto, eh beh ma questo sarà un problema perché lo sportello SUAP comunque è per noi un'innovazione, ancora non siamo abituati a questo tipo di lavoro dal punto di vista di automation a livello burocratico, poi io dico, beh il testo unico dell'attività produttiva vuole essere proprio l'inizio all'amodernamento e l'acceleramento anche a quelle che sono le modernità istituzionali, cioè non possiamo pensare di fare riforme strutturali se prima non ci abituiamo a utilizzare questi nuovi strumenti. I servizi 4G offrono nuove opportunità ai cittadini, consentendo la connessione internet superveloce per smartphone e tablet, ma possono creare interferenze alla ricezione della televisione digitale terrestre perché vengono trasmessi su frequenze adiacenti a quelle televisive. Se non riesci a vedere la tua TV digitale terrestre, puoi rivolgerti al servizio Help Interferenze per verificare se il tuo problema dipende dalla trasmissione dati dei nuovi servizi 4G per la telefonia mobile. In caso positivo, il disturbo alla TV sarà risolto senza alcun costo per il cittadino. Se sei un utente privato o un amministratore di condominio in regola con il pagamento del canone di abbonamento TV, puoi fare una segnalazione tramite web compilando il modulo elettronico sul sito www.helpinterferenze.it o numero verde chiamando l'800 126 126. In presenza di requisiti tecnici e amministrativi, il servizio Help Interferenze invierà un antennista specializzato che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi. Ulteriori informazioni sul servizio sono presenti sul sito www.helpinterferenze.it Mercoledì 3 luglio, maxi operazione antimafia del comando dei carabinieri di Palermo, arrestate 32 persone, tra le quali anche Alessandro D'Ambrogio, il suo nome era stato più volte al centro di numerose inchieste. Le interviste. Vucceria, Capo e Ballarò e anche Borgo Vecchio, i mercati storici di Palermo da sempre in grado di offrire e coprire la consorteria criminale ormai specializzata nel racket, nello spaccio internazionale di stupefacenti e che era pronta a crescere a dismisura invadendo la Spagna e il Sud America. La mafia negli ultimi anni è stata duramente colpita ma ha saputo dimostrare la sua capacità adattiva e la sua capacità di sapersi rigenerare, diventando sempre più forte e spietata. Nella vicenda i personaggi di sicuro spessore dal pedigree criminale comprovato sono Salvatore Asaro e Alessandro D'Ambrosio, il suo un nome che è comparso nell'inchiesta antimafia moltissime volte negli ultimi anni. Il reuccio delle estorsioni che nonostante la giovane età era riuscita a conquistarsi il rispetto dei suoi peri grado. A lui tutti si rivolgevano, fosse anche per mettere su una bancarella per la vendita di sigarette di contrabbando durante le feste religiose che nel periodo estivo invadono la città e che sono molto frequentate e care ai mafiosi. Tutto doveva avere il benestare di chi era riuscito a conquistarsi il consenso sfruttando la miseria culturale ed economica delle zone disagiate della città. Estorsioni, pizzo, minacce e mani al collo in caso di mancato pagamento, ma soprattutto droga. Era questo il sistema messo in piedi da D'Ambrosio da quando era uscito dal carcere solamente pochi anni fa e studiato dentro la sua impresa funebre nel cuore di Palermo. Gli stupefacenti hanno costituito dunque un vero e proprio capitolo a parte che portava molto denaro nonostante il periodo di crisi economica. Cifre che spingono la consorteria ad essere più aggressiva, cercare sodalizi in tutta la regione e perché no anche in Spagna e in America Latina. La scalata alla Spagna viene organizzata proprio con i trepanesi che si sentivano in grado di poter offrire in gestione l'isola. Ti do la Sicilia, io peso 100 kg e certe volte in grosso di più, dire a Salvatore Asaro, uno spagnolo. La mafia prova anche a liberarsi dagli intermediari, per così dire storici, nell'acquisto degli stupefacenti, i napoletani di solito, e vanno direttamente a comprare in Tunisia o magari provano a mettere su delle vere e proprie piantagioni di marijuana. Per adesso gli arrestati sono 32 e il numero sembra destinato a crescere. Vi sono varie componenti nella scelta di Cosa Nostra di ritirarsi in parte, non totalmente ovviamente, dal settore delle estorsioni che prima era decisivo e determinante e che soprattutto serviva ad affermare la sovranità sul territorio. Queste due componenti hanno determinato questa nuova strategia, peraltro la mafia ci ha abituato da tempo a cambiamenti interni, a cambiamenti nel modo di operare. Questa nuova strategia di volgersi verso il traffico di droga che assicura guadagni notevolmente più ingenti e anche l'indiretta possibilità di creare un distorto consenso sociale attraendo nell'area dello spaccio di modesta entità una serie di soggetti che in qualche modo, in questa situazione gravissima, ne ricavano però il necessario per vivere. Esiste la Palermo della legalità, la Palermo che è sempre più rispettosa dei valori del vivere civile e del valore del rispetto delle regole incarnate proprio da questo palazzo in cui ci troviamo. È la Palermo della mafia in cui vige soltanto la regola della sopraffazione e dell'osseguo alle persone di maggior rispetto che riescono a farsi avanti con gli strumenti della oppressione mafiosa nei confronti degli altri. Sono due città fra le quali non è possibile alcun tipo di compromesso, alcuna mediazione. Emerge un caso emblematico di due persone che litigavano per interessi economici. Uno dei due si è rivolto alla legge e l'altro si è rivolto alla mafia. Vedete voi chi ha avuto ragione. Quello che si è rivolto alla mafia non solo si è trovato coinvolto in questa vicenda ma alla fine ha dovuto anche lui pagare il pizzo alla mafia stessa. Formazione professionale, i sindacati scrivono a Crocetta ritardi negli impegni assunti nell'accordo del 7 giugno. Si avvino subito i provvedimenti. I sindacati FLCGL, CISL, Scuola e UIL Scuola hanno inviato al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta una lettera per sollecitare i provvedimenti annunciati nell'accordo siglato lo scorso 7 giugno. Il governo regionale si era assunto nell'immediato l'impegno di provvedere all'emergenza salariale, gli stipendi arretrati dei lavoratori della formazione con l'annuncio del potenziamento degli uffici competenti dei due dipartimenti e le rispettive ragionerie per consentire l'erogazione dei finanziamenti agli enti gestori e il conseguente pagamento delle spettanze ai lavoratori. Ma Giovanni Migliore, responsabile formazione CISL, Scuola, lamenta i ritardi e le inadempienze che si stanno verificando nella realizzazione dei punti dell'accordo sulla vertenza formazione. Ad oggi ciò appare solo parzialmente realizzato, dice Migliore, e l'andamento della spesa e la sua velocizzazione risultano insufficienti e inadeguati e questo vale anche per altri punti dell'accordo firmato lo scorso 7 giugno. I sindacati lamentano ritardi per i pagamenti relativi all'avviso 20, le cui attività sono nella stragrande maggioranza concluse o in via di conclusione, e per le attività dell'obbligo di istruzione e formazione. Migliore poi lancia una stoccata all'amministrazione. Siamo della stessa idea del governatore Crocetta, se i dirigenti non raggiungono gli obiettivi vanno cambiati, non spendere mettendo a rischio i finanziamenti futuri è di fatto un mancato raggiungimento degli obiettivi. I servizi 4G offrono nuove opportunità ai cittadini, consentendo la connessione internet superveloce per smartphone e tablet, ma possono creare interferenze alla ricezione della televisione digitale terrestre, perché vengono trasmessi su frequenze adiacenti a quelle televisive. Se non riesci a vedere la tua tv digitale terrestre, puoi rivolgerti al servizio Help Interferenze per verificare se il tuo problema dipende dalla trasmissione dati dei nuovi servizi 4G per la telefonia mobile. In caso positivo, il disturbo alla tv sarà risolto senza alcun costo per il cittadino. Se sei un utente privato o un amministratore di condominio in regola con il pagamento del canone di abbonamento tv, puoi fare una segnalazione tramite web compilando il modulo elettronico sul sito www.helpinterferenze.it o numero verde chiamando l'800 126 126. In presenza di requisiti tecnici e amministrativi, il servizio Help Interferenze invierà un antennista specializzato che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi. Ulteriori informazioni sul servizio sono presenti sul sito www.helpinterferenze.it Giovedì 4 luglio, editoria, via libera al disegno di legge della commissione attività produttive all'ARS per Marziano. Dall'aula ci auspichiamo la stessa celerità della commissione. Il disegno di legge per il sostegno all'editoria ha avuto un iter velocissimo in commissione attività produttive. Dopo aver ascoltato le parti interessate abbiamo approvato il testo in una sola seduta fiume. Adesso ci aspettiamo la stessa celerità e lo stesso senso di responsabilità da parte dell'aula per poter mettere in campo al più presto strumenti a supporto dell'informazione televisiva, radiofonica, online e della carta stampata. Lo dice Bruno Marziano, presidente della commissione attività produttive dell'ARS dove oggi è stato approvato il DDL 304, recante norme per la promozione e il sostegno delle imprese dell'informazione locale presentato dal deputato Lino Leanza del gruppo articolo 4. Abbiamo rispettato pienamente le indicazioni della conferenza dei capigruppo, aggiunge Marziano. Il disegno di legge colma un vuoto. La Sicilia infatti al contrario di altre regioni non si è mai dotata di strumenti in grado di sostenere le imprese dell'informazione in occasione del passaggio al digitale terrestre. Si prevedono incentivi all'amodernamento tecnologico, sostegno alle aziende in crisi, incentivi anche alla fuoriuscita dal nero, possibilità di avviare formazione specifica per attività legate all'informazione e all'editoria. Insomma uno strumento efficace per sostenere un settore di assoluta importanza che attraversa una fase di difficoltà. Il DDL dovrà adesso passare dalla commissione bilancio, quindi potrà essere esaminato dall'aula. E giovedì è stata presentata la 389esima edizione del festino di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Quest'anno la ricorrenza più sentita dei palermitani verrà dedicata ai bambini, a chi fa il futuro, come recita lo slogan. Ci sono dei problemi endemici che oggi noi vediamo, il problema dei senza tetto, i problemi dei senza lavoro, abbiamo il problema giovanile, abbiamo il problema dei servizi, mi riferisco alla situazione della GESIP o dell'AMIA, su cui si cercano di fare tanti sforzi, ma si fa fatiche a trovare un quadro generale. Con la disoccupazione giovanile esistono anche altri problemi che sono legati all'infanzia, ai giovani, ai bambini, perché questi non sono ancora giovani, forse non sono adeguatamente attenzionati, ma sono la pupilla, dovrebbero essere, di tutta la società e della Chiesa. La vera peste che quest'anno l'amministrazione comunale vuole mettere al centro dell'attenzione in occasione del festino di Santa Rosalia è il furto di futuro, l'assenza di futuro. E' l'assenza di futuro che colpisce il disoccupato, l'assenza di futuro che colpisce l'anziano, l'assenza di futuro che colpisce il portatore di handicap, l'assenza di futuro che colpisce i giovani, per questo abbiamo pensato di mettere insieme bambini e futuro. Sarà un festino che guarda al futuro con gli occhi dolci ma molto attenti dei bambini, quindi un festino che parla di bambini, che è raccontato anche dai bambini e che guarda al futuro, così come la città che è consapevole delle difficoltà nelle quali si trova, nelle quali si trova la città, nelle quali si trova l'intera comunità e il nostro paese, ha la forza di unirsi nella devozione per Santa Rosalia e guardare al futuro. Venerdì 5 luglio ancora un nulla di fatto per i lavoratori della GESIP di Palermo che sono tornati in strada per chiedere risposte concrete all'amministrazione. Dovevano rientrare oggi in servizio ed invece sono scesi per l'ennesima volta in piazza per protestare. Si tratta dei 1800 lavoratori della società di servizi GESIP. Dopo il via libera del ministro dell'economia Saccomanni al decreto per l'attribuzione delle risorse finanziarie per la cassa integrazione a livello nazionale non c'è ancora nessuna certezza sull'importo delle somme destinate alla GESIP. Sono 26 milioni di euro stanziati alla regione siciliana del governo nazionale. Fondi, come sottolinea anche l'assessore regionale al lavoro rester buona fede, insufficienti per coprire la cassa integrazione di tutti i richiedenti. Questa mattina i lavoratori hanno quindi manifestato per chiedere al comune di Palermo certezze sul futuro a partire dal 1 gennaio 2014. Ieri Orlando ha parlato di tutto tranne del nostro futuro, hanno dichiarato i lavoratori, non abbiamo risposte. Siamo rammaricati, scrivono in una nota i sindacati, Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux Will, perché ad oggi non vi è un piano e un progetto di ristrutturazione per GESIP finalizzato alla ripresa dei servizi a partire dal 1 gennaio 2014. Intanto per lunedì 22 luglio è programmato un incontro tra l'amministrazione comunale e le parti sociali. La chiusura di Porta Nuova a Palermo e i lavori che si stanno effettuando per renderla agibile durante il festino di Santa Rosalia sono soltanto dei palliativi. I problemi strutturali del monumento e di tutto l'asse viario di Corso Vittorio Emanuele sono gravissimi e vanno risolti in un altro modo. Ce lo ha spiegato Gianfranco Zanna, direttore regionale di Lega Ambiente Sicilia. Si sta intervenendo soltanto per permettere la riapertura di Porta Nuova anche dai giorni del festino. Purtroppo si sta intervenendo con direi quasi una tachipirina mentre il malato ha la broncopolmonite. Non si risolvono così i problemi di Porta Nuova, soltanto questa è una pezza pure brutta e inconsistente per affrontare il problema, anzi per non affrontare il problema. Porta Nuova ha problemi serissimi, strutturali, così come noi denunciamo da 10 anni, non solo noi. Nel progetto che allora facemmo insieme, come Lega Ambiente, insieme all'ARPA Sicilia, all'Università di Palermo, alla Facoltà di Ingegneria, al Centro Regionale per il Restauro dell'Assessorato dei Beni Culturali, venne fuori che l'intera asse di Corso Vittorio Emanuele, quindi da Porta Nuova a Porta Felice, ha gravi problemi di inquinamento e di staticità. Anzi, ancora prima delle polveri sottili, quello che sta creando grave danno a tutti i monumenti, a partire da Porta Nuova, sono le vibrazioni dei mezzi pesanti. Ecco perché da 10 anni, non da un giorno, chiediamo almeno la chiusura al traffico pesante in Corso Vittorio Emanuele. Noi allora calcolammo numeri alla mano, contandoli, che in una giornata normale, tra le 8 e le 9 del mattino, sotto Porta Nuova, passano circa mille auto, un centinaio di mezzi pesanti, che si chiamano autobus, pullman, addirittura tir snodati, e centinaia di motorini. Tutto questo crea un grave danno al patrimonio architettonico del nostro centro storico. Mettiamoci il rimedio, fermiamo il traffico pesante e almeno cominciamo a risolvere questo problema. Nient'altro per questa settimana, grazie per averci seguiti. Ancora una buona domenica.